Questo programma contiene parolacce, contenuti forti, un po' di dolore e tatuaggi scandalosi. Puoi toglierti gli occhiali della paura? Ci siamo. È il momento. Lo adoro. Davvero? Sì. Sono felice che ti piaccia. Percepisco strane vibrazioni. Sono molto confusa. Ho visto il tattoo di Hattie. Credo che dovremmo farla salire subito prima di dire qualunque altra cosa, capito? Sono confuso. Ma che cavolo sta succedendo qui? Fidati di me, Josh. So quello che faccio. Dai, 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 dai. Hattie, mettiti gli occhiali della paura. Oh, sembri triste. Sono terrorizzata. Non avere paura, tranquilla. Jade, puoi venire ad aiutarci con le bende? Dai, Jade, dai, Jade. Dobbiamo fare presto. Strappa via, come un cerotto. Ok. Dai, forza. Ok, Jade. Che paura. Quante parole ci sono nel tuo tatuli? Tre. Allora cominciamo dal tre. Tutti insieme. Tutti insieme. Tre, due, uno. Hattie, puoi togliere gli occhiali della paura? Non voglio toglierli. Ti amo. A te ti amo. Tanto. Per questo ti ho fatto il tuo. Sei tutto per me. Non voglio più essere solo una tua amica. Lì, hai ufficialmente chiesto a Hattie di essere la tua fidanzata. Qual è la risposta? Sì. Che carine. Dalle un bacio, dai. Brave. Quindi questo vuol dire che siete fidanzata e fidanzata? Sì. Cavolo, avete fatto più in fretta di me, Charlotte. Questa è una prima volta per Giastatuo Vase. Mai successo prima. Non posso credere che tu sia la mia fidanzata. Assurdo. Sono felicissima per voi, ragazze. Congratulazioni. Abbraccio di gruppo. Abbraccio di gruppo. Abbraccio di gruppo. Oh, che felicità. Abbraccio di gruppo. 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 Abbraccio di gruppo.